Musica A Ozzano dell'Emilia il presidente della saccata baste che Cassali Presidente buonasera Buonasera Allora una bellissima partita si può dire che la Serie A potrebbero prendere esempio da questi ragazzi Partita corretta, bella, la saccata purtroppo non ce l'ha fatta No, purtroppo la saccata non ce l'ha fatta Purtroppo abbiamo pagato secondo me molto la loro fisicità Oltre che ovviamente essere una buona squadra E noi sicuramente per noi è un ottimo risultato quello che siamo riusciti a raggiungere I ragazzi hanno dato tutto quello che potevano È stata una gran bella partita, diretta, bene Complimenti alla vincitore Sicuramente porteremo avanti questo gruppo nel migliore dei modi Nei limiti del possibile cercheremo di rinforzare il gruppo Per fare il prossimo anno un campionato anni 17 Come quello di quest'anno, se no migliore Stiamo organizzando un torneo di otto squadre Già ci sono cinque iscrizioni Speriamo che nei prossimi giorni arrivano le altre tre squadre che ci mancano per completare il torneo Dopodiché il 28 giugno partiamo con questa esperienza Al palazzetto dello sport di Porta Potenza e presso la palestra delle scuole elementari di Potenza Picena Ok Presidente, grazie e in bocca al lupo per il torneo Crepi il lupo Grazie 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 Grazie